کاestri Provate ad immaginare per un attimo di vivere in una casa dalle pareti di vetro. In questa casa tutto quello che fate è visibile a chiunque, sia ai vostri vicini, ma soprattutto anche agli sconosciuti. Seppure nessuno vorrebbe vivere in una casa come questa, le cose sui social sono proprio così. Sui social infatti tendiamo a condividere i nostri momenti di quotidianità con tutte le persone intorno a noi. Condividiamo le foto delle nostre vacanze, oppure quelle dei nostri figli, oppure quelli di momenti importanti con la nostra famiglia, oppure con i nostri amici. Ma pensateci un attimo. Il fatto di condividere tutte queste informazioni non ci porta a vivere in una casa di vetro? Eppure tutto questo non ci sembra un problema. D'altronde siamo noi stessi, in maniera volontaria, a pubblicare tutte queste informazioni. Possiamo scegliere quale foto pubblicare, oppure se rimuovere un commento che non ci piace più. Inoltre possiamo scegliere con chi condividere questi contenuti, e chi invece escludere. Qual è il problema allora? Siamo noi, in controllo delle nostre informazioni, no? No, questa è solo un'illusione. Il problema infatti è che ogni azione che facciamo sui social può avere delle gravi conseguenze anche sulle nostre vite. lavorando da anni nel mondo della cyber security sono quotidianamente a contatto con dei dati sensibili. In questi anni ho capito quindi il valore della segretezza e della riservatezza delle nostre informazioni. Ma soprattutto, quello che ho capito, è che non è necessario eliminare internet dalle nostre vite per prenderci cura dei nostri dati. Tutto quello che possiamo fare, però, è un compromesso. Possiamo infatti costruire una casa con un muro in mattone che tutelì la nostra privacy. Ma come ogni casa, anche con qualche finestra che ci esponga al mondo esterno. Questo compromesso, però, possiamo compierlo solo se ci rendiamo conto di quali sono i rischi a cui andiamo incontro quando condividiamo qualcosa sui social. Ma quali sono questi rischi? Beh, per cominciare vi faccio una domanda che magari vi può sembrare anche banale. Secondo voi, quanto il nostro profilo social può compromettere un colloquio di lavoro? La risposta personalmente mi ha stupito. Infatti, secondo una recente ricerca italiana, ben il 44% dei selezionatori ha ammesso di aver scartato un candidato dopo aver visualizzato il suo profilo social. Le principali motivazioni sono tre. La prima è che questa persona ha postato delle foto sconvenienti. La seconda sono delle informazioni non coerenti con il curriculum. E la terza sono state dei contenuti discriminatori. Ma non sono solo le persone che cercano lavoro ad essere danneggiate dal proprio profilo social. In Italia, infatti, alcune persone hanno perso il proprio posto proprio a causa per dei post condivisi su Facebook. Altre aziende, invece, hanno visto danneggiarsi la propria credibilità e immagine per dei post che sono stati controversi e comunque molto opinabili. Questi, però, sono solo alcuni. Le rischi a cui andiamo incontro quando ci dimentichiamo che i social sono delle case di vetro. C'è un problema che mi preoccupa molto di più. E questo riguarda un discorso che non credo che venga affrontato con la giusta consapevolezza. Io me ne sono reso conto in questi anni perché alcuni dei miei amici cominciano a diventare genitori. Il problema, infatti, riguarda i danni che facciamo ai nostri figli quando condividiamo online le loro informazioni e le loro foto. Negli ultimi anni si sta sviluppando un fenomeno chiamato sharenting. Questa è la tendenza dei genitori nel condividere online tutto quello che riguarda la vita dei propri figli. Dalle prime parole, ai primi passi, fino alla foto dei primi giorni di scuola, alla laurea e così via. Secondo un'indagine americana, quasi un genitore su tre pubblica ogni giorno una foto dei propri figli sui social network. Un altro studio inglese, invece, afferma che in media un ragazzo di 13 anni si trova condiviso dai genitori circa 1300 tra foto o video. Anche se le statistiche non arrivano dall'Italia, penso che tutti voi possiate constatare come questo sia un fenomeno molto diffuso. Siamo arrivati al punto che bambino nasce veramente solo quando i genitori pubblicano la sua foto su Facebook. Ma anche qua verrebbe da chiedersi qual è il problema? D'altronde, no, sono solo foto o dei video innocenti che male possono fare. I problemi sono sostanzialmente due. Il primo è che queste informazioni sono pubbliche e quindi disponibili a chiunque. Sono disponibili anche alle persone che vogliono utilizzarle per fare del male oppure danneggiare il nostro figlio. Pensate solo se un giorno fosse preso di mira da un bullo. Questo bullo avrebbe delle foto molto sensibili e personali di nostro figlio per offenderlo, prenderlo in giro oppure schernirlo. Un altro rischio molto preoccupante, ovviamente, è quello della pedofilia. Secondo un'indagine australiana, quasi il 50% dei contenuti che girano sui forum legati a questo ambito è preso proprio dai social network. Un altro rischio molto concreto è quello del furto d'identità perché insieme alle foto pubblichiamo tantissime informazioni sensibili di nostro figlio. Estimato che entro il 2030 quasi due terzi dei furti d'identità riguarderanno proprio le informazioni condivise dai genitori sui figli. Bullismo, pedofilia e furto d'identità. Dobbiamo renderci conto che ogni volta che pubblichiamo una foto sui social network di nostro figlio non stiamo prendendo quella foto dentro il soggiorno di casa nostra dove solo gli ospiti che entrano possono vederla ma la stiamo pubblicando sui muri esterni dove tutte le persone che passano possono vederla e questo è il primo problema. Il secondo problema invece è che queste informazioni sono permanenti da quando le condividiamo infatti non possiamo sapere chi le ha scaricate per poi ricondividerle in privato. Se quindi un giorno decidessimo di scaricare di cancellare una foto dal nostro profilo social non potremo mai essere sicuri che questa non sia più presente su internet. Proprio per questo motivo le foto che condividiamo dei nostri figli sono permanenti proprio come dei tatuaggi e se anche un giorno il nostro figlio decidesse di farsi un tatuaggio potrà farlo scegliendo autonomamente cosa è giusto fare e cosa no. Così come per i tatuaggi quindi dobbiamo lasciare che i nostri figli condividano autonomamente cosa su internet le loro foto scegliendo per loro cosa è giusto e cosa no senza essere noi a violare la sua libertà. Provate a mettervi nei suoi panni per un attimo. Come vi sentireste se da adulti scopriste che una cosa così personale ma anche sensibile come i vostri album dell'infanzia fossero sui social in maniera pubblica e permanente? Proprio per questi motivi prima di condividere una foto che ritrae i nostri figli sui social è giusto porsi almeno un paio di domande. Ho davvero bisogno di pubblicare questa foto? Può questa foto essere dannosa per mio figlio nel presente ma anche nel futuro? Se ancora siamo convinti che pubblicare quella foto non comporti alcun rischio per il nostro figlio allora ci sono almeno un paio di accorgimenti che possiamo prendere per creare un compromesso con la sua privacy. In questa foto per esempio sono mostrati solo dei dettagli del corpo del bambino. In questo modo non andiamo a raffigurare e mostrare i particolari che lo vanno a identificare facendo un compromesso con la sua privacy. In quest'altra foto invece sono state utilizzate delle emoji per coprire i volti dei più piccoli. Questa foto è stata scattata durante una vigilia di Natale con la mia famiglia e queste sono le persone che al mondo mi sono più a cuore. Proprio per questo motivo i volti dei più piccoli sono stati coperti con delle emoji per creare anche in questo caso un compromesso con la loro privacy. Puoi smettere di compromettere il futuro di tuo figlio solo se comincia ad affrontare questo discorso con la giusta consapevolezza. Puoi farlo già oggi e sono sicuro che un giorno tuo figlio ti ringrazierà per averlo fatto. Devi renderti conto che stai vivendo i social pensando che queste siano le case in cui vivi ogni giorno in mattoni sicure ma non è così i social sono le case come quelle che vedete qua dietro cioè casi di vetro dove la nostra privacy è costantemente a rischio e dove noi e i nostri cari siamo più vulnerabili. Grazie.